Falsi sinistri stradali con la compiacenza di medici, infermieri e avvocati, oltre 70 le persone coinvolte. Un'indagine complessa partita dal 2017 che ha fatto emergere l'esistenza di un'associazione a delinquere radicata sul territorio della provincia di Chieti, ma operante anche fuori regione per truffare le compagnie assicurative a titolo di risarcimento. Questa mattina in procura a Chieti la conferenza del procuratore capo Giampiero Di Florio. Gli arresti? Sono 15 misure tra arresti domiciliari, obbligo di presentazione, interdizione dall'esercizio della professione da 4 mesi a un anno. A fare scattare l'indagine di Polizia e Guardia di Finanza, i movimenti anomali e di ingente entità riscontrati sulle post-pay di alcuni soggetti. Anche la dinamica delle truffe era ricorrente, investimento di persone su strisce pedonali o coinvolgimento di auto di basso valore. Oltre all'attività truffaldina, alle compagnie assicurative ci sono stati anche ingenti danni indiretti, ancora di Florio. Quello diretto che riguarda la compagnia è sul milione e mezzo di euro, però abbiamo accertato solo una parte. Per quello che riguarda il danno indiretto mi dispiace constatare il fatto che ci sia stato uno sviamento dell'attività istituzionale di forze dell'ordine di enti ospedalieri, perché si sono dovuti occupare di queste persone che chiedevano prestazioni senza avere alcun tipo di diritto, con le code e le attese che oggi abbiamo per gli accertamenti strumentali nei nostri ospedali. Grazie.